Benvenuti all'ultimo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni Raffaele Mammoliti, segretario generale CGL Catanzaro, che ha parlato della situazione affitta agli studenti dell'Università Magna Grecia. Noi con l'iniziativa di oggi vogliamo lanciare questa problematica che ha una ripercussione molto pesante e negativa soprattutto sulla condizione reddituale delle famiglie e degli studenti, perché la spesa per il fitto incide all'80% del budget della spesa complessiva dello studente. E poi vedere che questa spesa non viene regolarizzata da un contratto, che a sua volta non viene nemmeno registrato, impedisce sia allo studente sia alla famiglia che ce l'ha fiscalmente a carico di avere dei vantaggi e dei benefici, sia per quanto riguarda lo studente e la famiglia, sia per quanto riguarda anche i proprietari, perché oggi con le leggi che ci sono dal punto di vista fiscale ci sono delle poterose detrazioni che aiuterebbero e creerebbero una condizione di vantaggio per avere i contratti regolarmente registrati. Purtroppo questo non avviene, sarà un problema probabilmente culturale, sarà un problema anche di esigua informazione, ma con l'impegno che noi ci proponiamo di realizzare è quello di mettere insieme i diversi attori in modo tale che ci possano essere delle soluzioni congure che vengono incontro alla diminuzione, quindi alla calmierazione dei prezzi e soprattutto ad avere dei contratti regolarmente registrati. Il Centro Dialisi di Taurianova in provincia di Reggio Calabria compie 30 anni di attività. Il Centro Dialisi di Taurianova, dopo mesi turbolenti caratterizzati da tante difficoltà che hanno interessato le dinamiche di gestione della struttura, prova a voltare pagine e a ripartire con rinnovato vigore. La manifestazione che si è svolta nell'Aula del Consiglio Comunale di Taurianova ne è stato un esempio. Allontanati i fantasmi di paventate e presunte chiusure, il Centro ha celebrato il trentesimo anniversario della sua nascita. Il Centro Taurianovese, riconosciuto come reparto di eccellenza ed esempio positivo nel controverso mondo sanitario calabrese, svolge un ruolo di rilievo nel territorio della piana di Gioia Tauro e non solo, offrendo assistenza specialistica ai cittadini colpiti dalle malattie renali. L'incontro è stato utile per riavvolgere il nastro dei ricordi delle tante esperienze che si sono vissute nel reparto Taurianovese per ricostruire tutta la storia del Centro Dialisi, ma soprattutto per delineare il quadro di prospettive future da mettere in atto per soddisfare le aspettative che la popolazione locale ripone nella tutela e nella salvoguardia del diritto alla salute. Molte le personalità del panorama medico, politico e della Chiesa, che hanno offerto una serie di spunti di riflessione sull'unità operativa che rappresenta un'eccellenza nonostante le carenze e i dubbi che attanaiano la sanità reggina. Presenti Fabio Scionti, sindaco della città, Franco Pacenza, Filippo Bova, consigliere metropolitano delegato alla sanità, Vincenzo Rondanini, primario nefrologo, Elisabetta Tripodi, direttore amministrativo dell'ASP di Reggio Calabria, Salvatore Barillaro, direttore del distretto Aria Tirrenica, l'arciprete Don Alfonso Franco, Francesco Milito, vescovo della diocesi di Oppido Palmi. I due prelati si sono successivamente uniti alla tavola rotonda sul dibattito territorio ospedale che ha visto il contributo di professionisti e medici specialisti come Zoccali, Mallamaci, Ciccarelli, Bruzzese, Musacchio, Montuoro, Mancini, Mesiti e Forte. E cambiamo argomento. L'auditorium Giovanni Paolo II di Rende ha ospitato il convegno pastorale diocesano sull'esortazione di Papa Francesco a Moris Letizia, organizzato dall'Arci di Ocesi Cosenza Bisignano. L'iniziativa voluta dall'arcivescovo metropolita di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè, ha visto la partecipazione di 800 fedeli. La nostra diocesi di Cosenza Bisignano ha dedicato tre anni a capire i problemi della famiglia ma anche a stare vicino, ad accogliere, a cercare di camminare insieme alla famiglia perché è convinta che solo la famiglia può salvare la famiglia e può salvare direi anche la Chiesa e la società. Perché se la famiglia, come noi riteniamo, è una piccola Chiesa domestica, la Chiesa è fatta di tante famiglie e quindi accogliere le famiglie significa costruire anche la Chiesa. In questo terzo anno vogliamo, in modo particolare, stare vicino alle fragilità della famiglia per cercare di capire ma anche di dare una risposta che sia sulla linea, sulla scia di Papa Francesco il quale ci invita non solo ad andare nelle periferie ma anche ad accogliere le periferie e cioè le malattie della società di oggi. E pensiamo che stare vicino alla famiglia con amore significa già curare tante ferite, significa dare una risposta concreta a quelle che sono le esigenze di unità, di comunione, di una risposta ai tanti problemi che altrimenti non darebbero alla famiglia quella serenità che invece ha bisogno per poter essere propositiva e utile alla Chiesa e alla società. Speriamo di poter dare con l'aiuto della CEI attraverso Don Paolo Gentili che è il direttore dell'ufficio famiglia della CEI di poter dare delle risposte e poi vivele nella realtà della nostra diocesi non solo quest'anno ma che sia un programma per tutto il tempo di cui vogliamo dedicare e di cui vogliamo soffruire per capire fino in fondo quest'amore di Dio, l'amore trinitario che si deve riversare nell'amore familiare. E restiamo in tema al convegno pastorale diocesano è intervenuto anche Don Paolo Gentili direttore dell'ufficio nazionale di pastorale familiare della conferenza episcopale italiana. Don Gentili ha spiegato il nuovo volto della Chiesa in materia di famiglia attraverso i quattro verbi di Papa Francesco accogliere, accompagnare, discernere, integrare. Il convegno che ha radunato tutta la Chiesa di Cosenza Visegnano per poter dedicare questo nuovo anno pastorale ancora una volta alla famiglia in questo caso alle famiglie più ferite declina i quattro verbi con cui Papa Francesco descrive l'attenzione della comunità verso la famiglia una comunità capace di accogliere cioè soprattutto di essere un abbraccio l'abbraccio di Dio Padre per le famiglie ancor più per le famiglie più ferite più nella difficoltà del lavoro le famiglie che provano una divisione profonda le famiglie che si sentono più sole una comunità capace soprattutto di accompagnare viene proprio da Cumpanis il pane del cammino, il pane della parola il pane della speranza è l'atteggiamento di Emmaus che si mette quando Gesù si mette accanto a quei due e li vuole riempire di speranza nuova una comunità capace di discernere ogni giorno le famiglie sono chiamate a fare delle scelte ancor più quando c'è una ferita in famiglia c'è una divisione, una difficoltà le scelte diventano ancora più complicate e allora la luce per poter avere discernimento diventa la parola di Dio ma anche l'accompagnamento dei fratelli ma soprattutto una comunità e qui l'ultimo verbo è decisivo capace di integrare cioè di far sentire piena cittadinanza anche a quelle famiglie che qualche volta forse si sono sentite escluse dall'abbraccio della Chiesa A Pannaconi in provincia di Vibo Valencia si è svolta la quarta edizione di Musica a Colori la manifestazione dedicata all'arte in tutte le sue forme per ricordare Antonio Elia Guerrera il ragazzo 17enne scomparso il 30 settembre del 2013 è possibile vedere la musica e soprattutto vederla a colori? sì, se la si guarda con gli occhi e con l'entusiasmo di un ragazzo innamorato dell'arte in tutte le sue forme ed espressioni il 30 settembre del 2013 Antonio Elia Guerrera ha spiccato il suo ultimo volo per salire in cielo da allora la sua famiglia ha voluto ricordarlo creando una fondazione affinché quelle che erano le sue passioni e i suoi sogni diventassero realtà attraverso altri ragazzi anche diversamente abili ecco che nasce Musica a Colori una manifestazione aperta ai giovani delle scuole e delle associazioni dove è l'allegria farla da padrona la musica e l'arte sono le maggiori espressioni di gioia e anche delle emozioni delle sensazioni dell'anima quindi quale migliore cosa unirle in una manifestazione per ricordare poi qualcuno che mio figlio amava sia la musica che l'arte lui frequentava il liceo artistico però amava suonare e quindi ecco perché non è un motivo a caso il motivo è questo principalmente e poi perché la musica è allegria può essere allegria di colori pure e oggi deve essere questa una giornata di musica colorata tutto questo in una piccola piazza a Pannaconi frazione del comune di Cesseniti in provincia di Vipo Valenze dove campeggiano un Morales un monumento ma soprattutto dove si può percepire la voglia di ricominciare questa piazza è nata nel ricordo di Antonio perché c'era un rudire bruttissimo e Antonio aveva sempre il desiderio diceva mamma quanto è brutto questo posto facciamo qualcosa e allora anche perché noi volevamo creare un posto colorato in modo che quando la gente passava da qui non doveva rattristarsi al ricordo che qua ha vissuto e è andato via quel ragazzo ma solo guardando quel Morales e quei colori deve strappare un sorriso a chiunque e per questo è nata pure questa piazza che ora molto buona con il materiale tra le lav fermate La pizza, si sa, è una passione veramente per tutti e arriva una gran bella soddisfazione per il pizzaiolo di Castrovilleri, Luca Pace, che vince il primo premio nel torneo Pizza in Teglia. Il castrovillarese Luca Pace si piazza al primo posto al terzo trofeo Pizza Eccellenza d'Italia per la categoria Pizza in Teglia, organizzato dall'Associazione Pizzerie Italiane Arrende. È stata un'esperienza molto forte per me aver vinto perché portare a casa questo premio è stato molto gratificante e bello. È stata un'esperienza, diciamo, vedere altre persone, altre ricette di pizza, quindi diciamo che questa è anche cultura, no? Farmi una formazione vedendo altri concorrenti, diciamo, gareggiare e portare nuovi sapori di tutta Italia perché hanno partecipato tanti concorrenti, circa 110, provenienti da tutta Italia. Pace, giovane e preparato nel suo settore, nasce come cuoco ma si è cimentato nel campo della pizzeria da circa due anni, partecipando a competizioni subito dopo aver terminato la scuola per pizzaioli dell'Api. Sono un cuoco, però ho avuto sempre la passione per la pizza. Dopo che ho intrapreso questa strada, diciamo, della pizza, aver vinto questo premio, diciamo, per me è stato importantissimo, bellissimo. E concludiamo con un ultimo servizio, portare lo sport nelle piazze della città. Questo è l'obiettivo del CONI con l'iniziativa Sport in Piazza. Anche quest'anno abbiamo ospitato con l'amministrazione comunale organizzando, grazie al CONI, al CONI provinciale, Sport in Piazza. È una manifestazione che vuole portare lo sport nelle piazze della nostra città, in particolare nel centro storico, a riprova che, ancora una volta, l'amministrazione comunale investe in quello che è la rivetellizzazione del centro storico. Questo appuntamento importante cade quest'anno con quella che è la settimana europea dello sport. Fare sport significa crescere e far crescere le nostre generazioni, i nostri giovani, ancorati a quelli che sono i valori non solo dello sport, ma della legalità, del rispetto agli avversari e del rispetto alle regole. Questa iniziativa coincide con la conclusione della settimana europea dello sport. È un momento che è stato celebrato a Catanzaro, come in altre 20 piazze italiane, per sottolineare il valore dello sport a livello europeo. E allora abbiamo organizzato questa iniziativa, assieme all'amministrazione comunale, che ringraziamo in particolare con l'assessore Giampaolo Mungo, abbiamo organizzato questa iniziativa, dicevo, per realizzare un'attività promozionale dello sport sul territorio e soprattutto nel centro di Catanzaro, che questa sera è assolutamente il cuore pulsante dell'attività sportiva provinciale. È un momento sicuramente molto piacevole, di grande significato, di grande valore, che vuole soprattutto avvicinare i giovani allo sport. E anche per oggi è davvero tutto, io vi aspetto domani a partire dalle ore 11, sempre qui su Calabria News 24. Grazie per essere stati con noi, buonasera a tutti.